Ciao, ciao Come stai? So bene Come stai? Grazie A arrivederci Buongiorno Buonasera Buongiorno Come stai? Tu puoi iniziare? Tu puoi iniziare? Tu puoi iniziare? Tu puoi in bagno? Parli in verde Da dove viene? Da dove viene? Da dove viene? Cuarte cosa sta? Non so Cuarte cosa sta? Non so stoffe Tu puoi iniziare? Tu puoi iniziare? No so Grazie a tutti